A conclusione della messa di canonizzazione di Madre Teresa di Calcutta, Papa Francesco, prima della preghiera dell'Angelus, ha voluto salutare le missionari e missionari della Carità, chiedendo che la Santa Fondatrice vegli sempre sul vostro cammino e vi ottenga di essere fedeli a Dio, alla Chiesa e ai poveri. Dopo il saluto alle tante autorità presenti, il Papa ha affidato la protezione di Madre Teresa, i volontari e gli operatori di misericordia presenti, pregando perché vi insegna a contemplare e adorare ogni giorno Gesù crocifisso, per riconoscerlo e servirlo nei fratelli bisognosi. E infine ha ricordato quanti si spendono al servizio dei fratelli in contesti difficili e rischiosi, e specialmente le tante religiose che donano la loro vita senza risparmio. Per questo ha chiesto di pregare per la sua missionaria spagnola, sua Isabel, che è stata uccisa due giorni fa nella capitale di Haiti, un paese tanto provato, auspicando che cessino tali atti di violenza e vi sia maggiore sicurezza per tutti. Grazie. 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 Grazie.